ciao ragazzi questo è il draw my family life gbr perché non siamo solo una famiglia di quattro persone nicolò matilde ale ed io ma siamo tutti assieme una famiglia di 300.000 giocherelloni qui su youtube siamo tantissimi provate a disegnare un cielo e poi a metterci 300.000 stelline sopra è come disegnare un sogno e la bellissima avventura di poter condividere i nostri video e la passione per il gioco con tutti voi è una cosa che non avrei mai potuto immaginare quando ero bambino negli anni 80 non c'era internet e l'unico schermo era quello della televisione che era grande e grossa come un armadio a cui mi appiccicavo perché non ci vedevo niente e così sono arrivati i primi occhiali da cui poi non mi sono mai più staccato i miei giochi preferiti lego lego e ancora lego poi le micro machine macchinine piccoline con cui facevo delle gare epiche in terrazza col terrore di farle cadere di sotto e l'isola di fuoco un gioco da tavolo super avventuroso che lanciava palle infuocate che purtroppo non ho più mi è rimasta solo questa biglia però la bella notizia è che la stanno rifacendo e l'ho già preordinata su kickstarter per cui ragazzi prossimamente su gbr comunque ragazzi non fate l'errore di perdere di vista i vostri giochi quelli preferiti con il rischio che poi magari finiscano nel cestino quando sarete grandi magari li vorreste riabbracciare perché sono un pezzo di voi mamma comunque non preoccuparti anche se in casa hai fatto piazza pulita di quasi tutto e butti via un sacco di cose io ti voglio comunque un sacco di bene il mio primo computer è arrivato con una caccia al tesoro che mi aveva preparato quel mito di mio papà per il compleanno vicino alla torta non ho trovato dei pacchi ma una lettera che mi ha mandato in giro per casa a trovare i regali ecco perché sono un fissato di cacce e ne ho preparato un sacco qui su youtube per nicolò e per matilde e mi sa che ne vedrete ancora quel primo computer era il mitico commodore 64 quello con cui tutta la mia generazione ha iniziato a smanettare io avevo quello a cassette ovvero bisognava far girare un nastro per ore prima di poter giocare ovvero lo mettevo a caricare la mattina andavo a mangiare tornavo pomeriggio giocavo solo che se perdevi la partita dovevi ricaricare tutto da capo ci voleva tanta tanta pazienza erano gli anni in cui mi sono trasferito dalla scuola di paese in cui andavo a quella di città a udine un posto troppo pieno di persone per i miei gusti e così in classe sono sempre stato un tipo piuttosto solitario così come nello sport dove ho sempre giocato a tennis con quella sensazione di sentirsi un po soli contro il mondo con la racchetta in mano gli amici e le persone che ti cambiano la vita le ho incontrate a scout dove sono stato lupetto esploratore e poi sono diventato capo e per sei fantastici anni sono stato bagheera la pantera del libro della giungla in quegli anni mi sono divertito un sacco a diventare giochi a cantare e a camminare con i miei mitici lupetti che poi quella è stata la prima volta che ho usato youtube più di dieci anni fa per lanciare il campo stivo o meglio le vacanze di branco avevo fatto addirittura un trailer tipo film che state vedendo e che avevo mandato via mail ai genitori e caricato anche sul blog del branco insomma è colpa dei tanti bambini con cui ho avuto la fortuna di giocare se oggi esiste la mia passione per il gioco e anche gbr ecco perché i primi video di questo canale sono i giochi di gruppo che mi inventavo perché non volevo che venissero persi o dimenticati come i giochi di quando ero bambino e che magari fossero di aiuto per chi voleva giocare assieme agli altri e per questo l'ho chiamato giochi per bambini e ragazzi perché chi cercava dei giochi potesse trovarli ma davide era un nome lunghissimo e così nel tempo è diventato abbreviato gbr e che voi ragazzi ci mandate in tantissime fan art con l'applicazione gbr la scritta è sempre la stessa ma per noi avere la fortuna di vederlo dai vostri infiniti punti di vista è fantastico ma torniamo un po indietro nel tempo a davide adolescente un periodo un po complicato per un tipo solitario avevo paura delle persone nuove e specialmente delle ragazze ma dentro avevo un mondo di cose così cominciai a scrivere e in poche settimane ovviamente volevo fare lo scrittore poi in prima superiore nel tema di italiano presi un 5 più ma non mi devi per vinto e mi esercitai secondo la tecnica consigliata dal mio prof di chimica chiamata anche sedere sulla sedia nel tema di italiano successivo ho presi un bel 5 meno con la prof che mi scrisse sei migliorato rispetto alla scorsa volta invece di arrabbiarmi però decisi che dovevo esercitarmi ancora di più e così scrissi fiumi di agende a mano proprio come questa del 98 pagine e pagine e pagine e pagine che poi riscrivevo con santissima pazienza al computer a scuola andai sempre meglio fino a diventare il secchione del caso perché ero testardo e mi piaceva arrivare fino in fondo e dare il massimo quel mito di mio padre mi stampava i libri che scrivevo ed eccoli qui sono questi in coppia singola fatti solo per me il primo era una storia d'amore fra due archeologi che era il mestiere che volevo fare da grande ovviamente alla ricerca di atlantide perché ero molto originale il secondo libro che è stato anche il più grande che ho scritto era una storia d'avventura ai confini del mare mentre il terzo era una fan fiction del mio telefilm preferito dei tempi che si chiamava party of five quanto l'ho adorato anche se non c'era ancora netflix era un patito di serie tv che facevo assorbire a quel santo di mio papà e che registravo su videocassette videocassette e videocassette e mentre finivo l'università laureandomi in ingegneria gestionale facevo campi scout iniziavo a lavorare cercando un po di capire quello che mi piaceva fare continuavo a scrivere condividendo la mia passione su internet ovvero la fantastica scoperta che non ero poi così solo ma c'erano tante persone con i miei interessi e la voglia di condividere ed ascoltare grazie ad internet ho scoperto i concorsi letterari ho vinto dei premi con i miei racconti e mi è venuta la strana idea di fare un libro tutto mio che gli altri potessero leggere così è nata la mia prima raccolta di racconti la nostra occasione presentata in giro per l'italia con un tour auto organizzato su myspace che era il re dei social network prima che arrivasse facebook poi è arrivata l'idea di scrivere un libro che mettesi assieme la mia passione per la scrittura per il gioco e per i bambini e mi sono inventato cenerontola la prima principessa con le curve che è la protagonista di un manuale di scrittura creativa per bambini è piaciuto così tanto che poi di cenerontola è arrivato anche il libro che racconta la sua storia ovvero cenerontola principessa all'arrembaggio e poi è l'idea era quella di scrivere un manuale solo di giochi collegato al canale youtube gbr ma poi sono arrivati giocattoli in casa gbr è diventato gbr a proposito di casa torniamo indietro ale dove sei eccomi qua siamo nel 2003 quando siamo usciti per la prima volta pizza cinema all'aperto e poi via sotto le stelle in realtà non era la prima volta che ci vedevamo all'elementari siamo andati in vacanza nello stesso villaggio turistico in puglia ma non ci siamo visti alle medie eravamo nella stessa scuola ma io sono un anno più grande eri la solita non guardavi quelli più piccoli alle superiori andavamo in montagna nello stesso posto ma io d'inverno e io d'estate ed eravamo tutti e due bagheera scout ma in due gruppi diversi poi però ho scoperto che anche lei giocava a tennis e così è nata la nostra estate tennistica giorni dove giocavamo a tennis in un campo dove non c'erano luci e noi continuavamo anche se non c'era più il sole e così non abbiamo più smesso di giocare e di stare assieme mi hai portato al mio primo concerto serio siamo andati a milano per quel mito che è brian adams e guarda ho ancora il biglietto per la tua laurea ti ho regalato un viaggio a parigi ed era la prima volta che prendevo l'aereo ed è stato fantastico e siamo stati a disneyland io ancora la mappa del 2005 io ti ho regalato un super quadro di paperino e paperina che ancora nella mia cameretta pensa quella volta nei cellulari c'era così poco spazio che nel mio ci stavano al massimo 200 messaggi e quindi mi scrivevo quelli più belli per non perderli non c'erano gli emoji negli sms e ci mandavamo i baciotti così per scrivere poco perché costavano un sacco e non si poteva navigare online ma cos'è questa musica è il 2010 ci siamo sposati io a un certo punto della cerimonia mi sono alzato e sono venuto anche a suonare una canzone col coro è stata una giornata pazzesca che purtroppo è durata troppo poco come il nostro viaggio in america ecco l'album da quando siamo tornati con la promessa poi di ritornarci in america perché il paese dei giocattoli in ogni senso tutto è andato super veloce casa lavoro amici e famiglia è arrivato nicolò davide ma ti ricordi quanto era piccolo un cucciolo tipo quella volta che metteva ancora la camicia e lui era lì ad accoccolarsi e questa è la prima foto dei calendari di famiglia gbr che ci facciamo ogni anno da quel giorno è cambiato tutto e diventare genitori è stata ed è l'esperienza più bella della nostra vita certo non è tutto rose e neanche fiori le notti i pannolini i malanni ne hai mille a cui pensare ma è proprio questo il bello perché la magia della vita come il momento del cambietto o le storie le risate nel lettino la prima papa con la mousse del nonno il primo natale con cuffietta gli sbacciucchiamenti nel lettone il cucù giocando con le porte i sorrisi giocando con lo specchio i primi biscotti sul divano e le prime briciole la prima volta al mare i primi scavi il primo compleanno auguri la prima volta in montagna la prima uscita elegante la prima popò e mamma l'ho fatta grande così il primo costume è scelto da papà da principe e poi con nicolò sono arrivati in casa i giochi e da lì sono arrivati su gbr insomma è colpa di nicolò è un pochino uno dei primi video che abbiamo fatto assieme è stata la corsa dei popatroll oddio guardalo si è come sempre ha vinto lui e poi è arrivata matilde la nostra principessa si di boccacce sempre in allenamento in palestra elegante al battesimo elegante per un matrimonio con il suo cavaliere ma anche un po cavaliere per carnevale con la sua apina e giocherellona prima della nanna con nicolò che lei ha sempre chiamato cocò un po pollo un po fratellino in moto in salotto valentino rossi e valentina rosa al castello vero con mamma e papà e nel castello di cartone che abbiamo fatto con il video sorpresa qui su gbr ma si è capito secondo te che a matilde piacciono i gattini e rosa ma giusto quel po e in attesa del prossimo calendario abbiamo la grande fortuna di condividere con voi la nostra passione per il gioco aprendo nuovi giochi andando a caccia in giro per la casa calpestando delle cacchine finte cipollando le lol surprise e chissà quali nuove avventure arriveranno accompagnati anche dall'ultima arrivata ovvero la nuova app gbr che avete scaricato in tantissimi grazie ragazzi perché essere in 300.000 è un traguardo incredibile tutti insieme siamo la famiglia più giocherellona di youtube se questo droma i family life vi è piaciuto mettete un pollicione iscrivetevi al canale per entrare nella famiglia gbr noi ci vediamo al prossimo video per giocare vi vogliamo bene ciao